Un secondo palo, al volo, che dirà! Juventus in vantaggio Sono passati due minuti e quaranta secondi Buon incroste di Giaccherini, di testa, Stepinski Ha pareggiato il Chievo Trentottesimo, a sorpresa, aveva il gol di Mariusz Stepinski Giaccherini che può puntare Cancelo, è già in era di rigore Giaccherini cambia passo, l'attacca Cancelo, calcio di rigore Calcio di rigore per il Chievo Fisca Pasqua, ricorsa breve Parte Giaccherini, in rete Chievo in vantaggio, clamoroso al Pentecodi Chievo 2, Juventus 1 Parte Bernard Mischi, colpo in testa, rete Ha pareggiato la Juve Bonucci, mezz'ora, 2-2 Ma qui vediamo meglio No, forse proprio direttamente rigore, è Alexandro È finta, palla che rientra sul sinistro, il tiro a cross Rete Juventus in vantaggio Il tocco di Bernardeschi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti